Siamo con il presidentissimo del Bayern Monaco finalmente in campo, ecco l'ex del Valencia e un altro giocatore del Valencia, eccoci qua. Ma ma camicia per il presidente! Facciamoci un po' più dietro che Spina devi controllare sulla linea, una parola a caldo del presidente, una parola a caldo del presidente, presidente, dopo venga il microfono, buonasera dal trofeo Jack, bentornato, ci mancava, ci mancava, è venuto a vedere questa squadra ma ancora una volta saluta la presidente, ancora non la vedremo in campo. Sì, prossimamente in campo, stiamo riacquistando la forma, ho saputo che la mia squadra sta attraversando un periodo un po' brutto, un periodaggio diciamo. Veramente hanno vinto la volta scorsa e stanno vincendo pure oggi. Ah no, abbiamo vinto due volte consecutivi. Allora, la squadra segue, presidente, ma è venuto a vedere questi ragazzi che sono bravissimi, sono forti, hanno la capacità di cambiare versione da un momento all'altro. Sì, sì, sono forse, sono davvero forti. Tagliamola, tagliamola, tagliamola. E con l'amico di sempre Bruco che ha perso un'altra parte col Valencia, ha voluto dire qualcosa, è un'onore a giocare di dolare però. Sì, è giocato un po'. Grazie a tutti.